Torna in provincia di Foggia, Goletta Verde, la storica imbarcazione di Legambiente che monitora la qualità delle acque marine. Partita il 18 giugno dalla Spezia, dopo aver fatto tappa in tutte le regioni che affacciano sul terreno, inclusa la Sardegna, passando poi per Sicilia e Calabria, da questo pomeriggio Goletta Verde toccherà la Puglia, in primis Gallipoli, grande metaturistica, per terminare il giro pugliese i prossimi giorni di martedì e mercoledì a Manfredonia. Negli scorsi anni l'imbarcazione di Legambiente aveva rilevato sul Gargano delle zone ad alto rischio di inquinamento, posizionando il villaggio di Torremileto tra i poker degli ecomostri. Così la Puglia lo scorso anno si classificava a terza tra i mari illegali. Inquinamento, cemento, pesca di frodo e infrazioni della navigazione sono i reati più contestati da Goletta Verde, un dato analizzato anno per anno in due mesi di navigazione costante dei volontari dell'associazione. Viaggio costituito anche dalle tante segnalazioni che giungono dei cittadini, infatti il percorso viene pensato anche in base alle maggiori richieste. A martedì prossimo Goletta Verde approderà alle 18.30 a Manfredonia con un primo incontro a Piazzetta Mercato dal titolo Tutti su per la terra. Mercoledì 26 luglio dalle ore 11 alle ore 13 sarà possibile salire a bordo per conoscere e chiacchierare con tutti i volontari che dal 18 giugno al 12 agosto navigheranno e indagheranno sulle acque costere italiane.